Dopo mesi di chiusura, oggi riaprono i battenti degli asili nido. Seppur l'apertura era prevista per il 14 settembre, infatti, il Comune di Fano ha deciso di anticipare la ripartenza di tutte le strutture della città, sia come prova generale per il futuro anno scolastico, sia per andare incontro alle esigenze delle famiglie, in modo da permettere a queste ultime di lasciare i propri figli al nido in totale sicurezza. Il primo cittadino, Massimo Seri, l'assessore ai servizi educativi e alle biblioteche, Samuele Mascarin, e Grazia Mosciatti, dirigente dei servizi educativi, hanno visitato personalmente alcuni plessi. È stato un lavoro difficile e importante perché tutte le misure di sicurezza hanno richiesto un'organizzazione che è partita con largo anticipo. Quindi mi sento anche di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, a cominciare dalla struttura delle politiche educative dell'amministrazione comunale, a tutti gli operatori anche dei nido. Partiamo anche con soddisfazione perché se ci guardiamo intorno pensiamo di essere forse gli unici che sono riusciti, ripeto, tutti in sicurezza a partire con anticipo rispetto all'apertura normale. Disposizione in maniera appropriata degli arredi e creazione della cosiddetta bolla, ovvero una soluzione che vede ogni sezione divisa a sua volta in gruppi, i quali avranno insegnanti differenti in modo tale da limitare i contatti. Sono queste le misure che garantiranno la salute dei piccoli e delle rispettive famiglie, predisposto anche un piano d'azione nel caso un bambino abbia sintomi. Abbiamo una buonissima rete tra famiglia, scuola, tutto il settore coordinamento, servizi educativi e i medici referenti. Quando succederà? Speriamo di no, ma se succede chiamiamo immediatamente la famiglia che si mette in contatto con il pediatra e poi sarà il pediatra a darci le indicazioni. Farà una prima diagnosi per valutare se è il caso di procedere con altre procedure. Altrimenti starà a casa qualche giorno e poi nel caso in cui il pediatra ci dica che ci sono necessari altri accorgimenti, ci muoveremo per informare le altre famiglie e semmai chiudere la bolla dei bambini appartenenti allo stesso gruppo del bambino. Non succederà, confido che non succeda.